Siamo arrivati. Bene. Ok, mi toglieresti le manette. Voglio una fetta. Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi gringos. Sì, Rave ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti han detto di non aprire. E mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento. Ha 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia. E l'ha fatta franca. Era su un libro. Bravo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli. Tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì. Conosco già la storia. Puoi arrivare al punto? Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ah, ecco. Spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso. Oh, santo... È una metafora. No, 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 no. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok. Facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti... La lettera? Por favor. E come pensi di arrivarci? Scalando. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fetta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. Ricordate ciò che ti ho chiesto? Sì. L'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro. Vicino alle casse. Ecco, una passeggiata. Cosa abbiamo qui? Bingo! Comincia la festa. Sì, parte! Comincia la festa. Forse posso scivolare giù da lì e agganciarmi alla trave. Speriamo bene. Non vedo l'ora di raccontarlo a Sam. Sempre più in alto. Ok, devo trovare la cella più alta. Oh, merda! È incredibile. Ma qui c'erano molti pirati che... venivano sulla forca. Ok. E adesso... Continua a salire. Io che mi lamentavo delle prigioni moderne. È incredibile che questo posto stia ancora su. Gli spagnoli la sanno lunga in fatto di prigioni. Chissà quanti pirati sono morti qui. Ok, diciamoci la verità. Mi diverto da matti. Sam, cosa ti stai perdendo? Ci siamo. La cella di Burns. Cella. Sembra più una suite. Ok. Da dove iniziamo? Questi graffi e scarabocchi avranno un significato. Il sole e la luna. Simboli alchemici di oro e argento. Un attimo. Ricordo qualcosa di simile sulla lettera. Ah. Fa parte del simbolo. Ecco l'altra metà. Dunque. Ora ci siamo. Ok, un simbolo dallo zodiaco. Il sagittario. E il segno dello scorpione. Dieci e due. X e ii. Guarda cosa abbiamo qui. Digna factis requibimus. Direi che è fatta. Ebbene. Ora di tornare. Forza! Lo scalino ha una trappola. Scendiamo. Piano. 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 D'accordo, riproviamo Vorrei vedere Rafe al posto mio E addio, spalla Lì c'è Vargas Beh, ci sto Voglio una fetta Te la do io Oh, merda No, 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 no Oh, ce l'ho fatta Ora si ragiona Ce l'hai fatta Che hai trovato? Drake Allora? Il posto è stato ripulito Se lassù c'era nascosto un indizio Io non l'ho trovato Per sicuro? Hai cercato nel punto giusto? Beh, deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera Forse c'era un'altra torre Che è crollata secoli fa Hai una mappa di questo posto? Sai una piantina? Può darsi C'è una pila di vecchi documenti Ok, bene, bene Tu dagli un'occhiata Vedi che cosa trovi Intanto io ne parlo con Sam È l'esperto di Avery Forse può trovare un senso a questa storia Ok, sì Guarderò tra le case Girati Sì Sì Bene Quando gli avrai parlato Torna da me D'accordo Vai Gringo Se ti becco ancora a fare appugni Vai nella buca una settimana Grande prova d'attore, Vargasano È quasi quanto la mia Che posso dire? Suerte del principiante Verdad? Hijo di puta Lo sento, chicos L'hai detto anche tu L'hai detto anche tu Noi l'abbiamo fatto Tu e io E adesso Riccone di merda vuole unirsi Da quanto ci provavamo? Eh? Avevamo qualche pista Non è vero, ok? Neanche una Che ti piaccia o no? Senza Rafe E senza Vargas Non saremo ingerati Riguardo a Vargas C'è un problema Che tipo di problema? Ti ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto Bene Dopo che ha letto la lettera Oh E cosa ha scoperto? Ti ne vuole una fetta Marta Rafe, se qualcun altro scopre questa storia No, no, sistemo tutto io con Vargas, tranquillo Ora ci sono cose più importanti a cui pensare D'accordo Cerchiamo un posto un po' più appartato Sì Bene Qui è tutto tranquillo Ok Allora Cosa abbiamo? Oh Merda Ehi Posso? Stai attento, ok? Legno con intarsi di oro e argento È ben fatto Dentro il cavo Perché un uomo di Everi dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso Tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù Questo non è Gesù È vero Manca la corona di spine ed è legato alla croce Ma se non è Gesù Ma se non è Gesù Allora Leggi l'escrizione Digna factis rechipimus Riceviamo 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 il giusto per le nostre azioni Mi stupisci L'orfanotrofio cattolico ha i suoi vantaggi È santisma Sì Il ladro pentito Ma non vedo il nesso Ragazzi Facciamo finta che io non sia mai stato a catechismo Ok Durante la crocifissione Gesù venne messo tra i due ladroni Ok Il primo Prese in giro Gesù Il secondo Questo qui Lui si pentì E Accettò il suo castigo Serenamente E Gesù lo condusse in paradiso Il ladro pentito Sì Che c'è? Oh hai capito? Esiste una cattedrale di sandisma in Scozia L'ultimo avvistamento di Evarifo in Scozia Non può essere una coincidenza No Sapete avevo dei dubbi su voi due No Cerchiamo Vargas Dobbiamo andarcene Fammi indovinare È il tipo con cui hai fatto appugni? Eh Non sapevo avesse tanti amici Le dici che non abbiamo terminato Mira Non sganaste Ok? Un' tardi per parlare Chi non sale? Senti lo sai Tu non ti metti Ok Ti ho sentito farti amati Lo risparmiate di perdono Buenas noches rando in Scozia Chi non ti metti Avvistamento di pernambino Si non te metti Invece Buonas Siéntate. Rompane su canita chula. Hora de irse, gringo. Sam, guarda una mano. ¿Estás muerto? ¡Espera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lásame! ¡Espera! Ya basta de hablar. ¿Alguien más necesita que les recuerde las reglas? ¡Alíñense! ¿Qué es esto? Eh? Dame. Contrabbandi de la merce. ¡Cállate! ¿Qué crees de ser? ¡Lévalo a su celda! Metré los gringos en mi oficina. ¡Cállate! Déjanos. Déjanos. ¡Argaz! ¡Cállate! Such search! ¡Lo hace yo! ¡茴b orah! ¡Argaz! ¡Argaz! ¡Andamos! Non ind cords! Non ho trovato niente. Sarai in un'altra torre. Beh? Ehi, ho un'educazione cattolica. E ho sempre una. Non rito. Ehi, ehi, senti. Non vale nulla, ok? Ti sembro un idiota? Ok, vuoi rinegoziare? Bene. Smettila di fare il teppista troglodita. Metti via la pistola. Grazie. Siamo disposti a darti il 10%. E 50? Il grosso del lavoro è nostro. 20. E non lo troverai senza di noi. 25. Alla pari. 25. Vi sembra equo? Me ne farò una ragione. Sì, certo. 300 milioni si dividono meglio in quattro. Allora siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. E se dovessimo rincontrarci? Cazzo, risolta. Ti ha dato di volta il cervello. Puoi forse scoprirlo? che stiamo facendo? Ci atteniamo al piano. Questo era parte del piano. Voi seguitemi. dai, dai! Dai! Ray, dove stiamo andando? Al fatto! Marca! Marca, soveggio che la marca è ormuggiata sotto il frattro. Ma da che fa? Non lo so. Una volta usciti, lo scopri. Ehm, la finestra! Nathan, aiutami! Presto! Ehm, migliorno! Non vedo il faro! No, non vedo il faro! Dai, dai, dai! Qualcuno non si apre Qualcuno non si apre Qualcun altro ingegno a quella della tutela Sera ordinato E' un'altra piccola Scalanti c'è in grata Fammi salire Andiamo Sam Pronto? Ehi Andiamo Sì, dopo di sé Sicuro? Derrivenlo! Merda Anche questa? Ok Natale! Ehi! Lasciamo la finita! Andiamo a raggiungere la rete Fino a un certo punto C'è una grata Aiutami a spingere Se ne andrà senza di nulla No, se facciamo presto Forza! Privato! Sono ovunque Non fendere Ok? Via libera Questa opposta sembra un labirinto Se non vogliono farci uscire Stiamo alla guardia Ehi, bello vedere Vai scendere la scaletta Siamo quasi Ecco il faro Come dicevi Bastava a tenersi al piano Sì, aspetta A festeggiare Dimmi Fra A guardare da quella parte Ignorci Forza! E non far cadere la trama Dai! Alla parete! Ora! Non fermarti! Vai! Ci sono Sam! Forza! Ti prendo io! Ti tengo! Andiamo! Sam, no! Dai! No, resisti! Resisti! Sam! Dammi l'altra mano! Forza, l'altra mano! No! Sam! Dobbiamo muoverci No, è ancora lì sotto! No, è spacciato! Forza, la barca è oltre quel muro! No, non posso Non posso lasciarlo qui Nate, tuo fratello è morto! Vieni con me o morirai anche tu No, Sam Fa come ti pare! Sam! Sam! Oddio, no! No! Merda! Sam! Arrivo, arrivo! Devo darmi una mossa Devo darmi una mossa